Sì, vabbè, completiamo un attimo il discorso che stavo... C's Cube Esatto, C's Cube sì, ci sta un ritorno, infatti magari prima che esce il sequel Il sequel di C's Cube già l'avevano annunciato parecchio tempo fa Ricordo anche Zombie, stava detto qualcosa sulla pagina Facebook, mi sembra E praticamente si chiamerà Malibu Drive Sì, perché dove... non è che c'entra tanto, eh Ok, non spoileriamo nulla, Sal, è fermata Vabbè, ma il trailer se lo vogliono vedere, vabbè Se volete spoilerarvi qualcosa, guardate il trailer, se non vi volete spoilerare niente Noi in ogni caso ve la porteremo 99,9% Sì, allora c'è una piccola chicca, cioè una piccola dettaglio, c'è un piccolo dettaglio Praticamente il 2 febbraio esce il nuovo DLC, è il 23 o il 26 esce questa mappa Quindi dovremmo fare proprio presto, cioè una cosa... Sì, però ci potrebbe stare, dai, cioè registrava tipo il giorno stesso e poi il giorno dopo Ok... Eh, ma succede anche a me quando ho sti due, è proprio la mia connessione Eh no, no, ma siamo proprio noi incompatibili Eh, siamo incompatibili, cioè assurdo Noi, io lo sa, non potevo mai fare una partita veramente seria È vero Perché le nostre connessioni sono incompatibili, è sempre stato così Anche con Giorno Sì, anche per la distanza, però Eh, ma Giorno è giustificato, cazzo lui sta in Canada, porca troia Cioè, è un po'... Aspetta, lascia un attimino, io quasi quasi ripotenzierei Sì, eh, provo Skiper Aspetta, tu stai lì, io te lo attivo Ah, eh, giusto Vuoi venire? No, no, tu stai lì, io te lo attivo Sì, vengo comunque Però prima... Ah, eh, ti aspetto Che cazzo Devi linkarmelo, tu Vuoi venire? Ah, ok Devi linkarmelo, sennò ciao Ok, ok Vai Aspetta, non ti teledrafico Eh, no, 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 perché ogni volta si deve come succhino Io cambio le make-up, perché... Cosa? Che ridi? Che ridi? No, perché è la prima volta che... Ho collegato... Cioè, ho ascoltato... Succhino... Come se fosse... No, ho già capito Cosa? Ho ascoltato succhino come se fosse una sola parola Succhino, tipo... Suona male Perché lui in testa c'ha solo quelle robe E' vero Sì Sono quelle robe, cattione C'ho anche qualche capello, ancora Eh, sì Mi è uscito il Cicom, però mi sa che tengo il type Ti ho ingrassati oggi, se ti può fare il piaccio Interessante Interessa Eh, andiamo Oh, io voglio usare sto cazzo di trasporto Vieni o no? Sì, no, no, va bene, vengo, vengo Aspetta, potenzia anche il type Già che ci siamo Vai, vai Ma qui te le fai elementari Già più una potenzia La prima volta Sì, esatto Non c'è il secondo pacca punch È diretto Appena pacca punch A parte quindi Ah, io provo prima a ripotenziare la spingata Ok, no, non me la fa ripotenziare Intanto io ti fotto la cosa Grazie Eh, beh, hai sprecato il tuo tentativo Oh, guarda un po' Guarda la mimetica È acida? Sì, bravissimo Infatti si chiama Toxin type 2.5 Ah, ce l'ho anch'io acida La cosa bella è che ho la spingarda Che non è acida Ma infatti È quello che non mi spiego Cioè Perché? Spiegatemi Perché queste robe? Perché? Liberatemi Perché queste cose? Cioè È veramente strano Discriminazione Discriminazione di armi Andiamo, proviamola Ah Spruzza merda Guarda come esplode la testa No, spruzza merda Senti il caricamento del round Ah, senti tu stai là Io sto qua Lì è un po' ostico a girare Stico Considerando che sto là Cioè Che non sono connessionatamente messo benissimo In effetti Forse non è la cosa più giusta da fare Però ormai ho lanciato l'idea Ho lanciato la sfida Mamma mia Spriamo Rilancia le sfide Io sto ancora in testa la mappa di Niantic Invece il L'M27 potenziato si chiama Mystifier Mamma mia Mystifier La pronuncia mi ha fatto proprio Magari facciamo così Ogni volta che arrivo tipo a 5000 così Cambio arma e Potenzio così Tutte le armi perché Per ora avete visto solamente due elementi Volevo fare vedere anche gli altri Non specifico quanti sono Non c'è la tavola a Pitagoria Per evitare che Non c'è la tavola a Pitagoria No 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 porca Eh vabbè c'è Istan che ce la fai? Sì Eh sì Sì No perché sai l'arpionamento di World of War Che è un po' Devo dire che in questa mappa l'hanno un po' abbassato Effettivamente Ah meno male Cioè L'ho notato peggio Cioè Molto peggio C'è un'arma per acqua Eh sì a me Ti chiedo sempre dove i bombi Lo so Non c'è Perché non mi metti Meno che non lo trovi nella cassa Che non credo che ci sia Però non c'è La mappa di Nyancut Ci sarà il Bowie Bowie di Nyancut Merda Proca merda Se no fai così Glielo fotti all'orsacchiotto Il Bowie Ce l'ha lui in mano Vero Vai lì No che dopo aver visto Ted Mi vengono i sensi di colpa Ad ammazzarlo Fai fermo Gli punti la big guarda Alla testa Orsacchiotto Dammi il Bowie Cazzo Tipo così E poi lui si spaventerà E ti cederà all'arma Inizia a parlare secondo me Eh può essere Farà un film Ma prendo il Davo Cartone animato Rivista Chiamo il da botto Tanto è Uscirà in edicola settimanalmente Dell'orsacchiotto Ti ti sto ignorando Cosa è caso Così Cos'è caso Come sempre Dicevo il Davo Si Eh no È quello di Black Ops 1 Se non sbaglio Dall'immagine Sembrerebbe di Black Ops 2 E allora è di Black Ops 2 Eh cazzo Cioè se non è maschio È femmina Eh si si Beh o è double tap O è double tap Cioè Si Un po' senso Tutto ciò Allora Ho una bomba Che fa un movimento sensuale Che si fa Sexy Esatto Eh se vuoi prendila dai Io c'ho anche un munizioni Che è molto sensuale Anche lui Eh si Vada vada Un attimo che finisco qua Io ho la spingarda Eh cazzo 8000 lasciamone uno se ce la facciamo C'è uno qua Non c'è il contatore di zombie Eh non c'è neanche il contatore di zombie Proprio Black Ops 2 e style Te l'ho detto io Non va bene Non va bene tutto ciò Non c'è nemmeno un Iancut come boss Non c'è nemmeno un Iancut come boss Lo volevo Allora una cosa che manca in questa mappa Come abbiamo detto nel primo episodio è Eh lo spazio Cioè è un po' piccolo Cioè voglio dire No Qua si gira abbastanza bene No 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 Per carità I posti dove girare stanno Però in generale è un po' piccolino Ah come grandezza della mappa Sì una mappa abbastanza piccola Sì Classificata nelle mappe piccole Continuo a dire L'ambientazione è una figata Però in sé per sé la mappa Mi sembra un po' spoglia Poi un'altra cosa Lasciano zombie Perché io sono stato scemo Pensavo Sì l'ho ottenuto Infatti c'è Bravissimo Un'altra cosa è invece Il boss Cioè non c'è un boss della mappa Alla fine Neanche un round bonus E quindi Mi identi è Nyan Cut Ragazzi mi dispiace So che tutti volevano Nyan Cut E vaffanculo C'è l'orsacchiotto come boss Ma scusa C'è la mappa Che è un buco E ci mettono pure La cassa che migra È vero Sì Non so quanto senso abbia Ma che cazzo Va bene No vabbè oddio dai Magari due posizioni Massimo tre ci stanno Però Meno male che migra subito Almeno che non ci mette tre anni Sì Eh quasi quasi Prendo anche Ma visto che piccola Io l'avrei fatta singola Un unico posto Sì vabbè quello sì Allora l'executioner Eh ho detto in modo malissimo Sì lo so vabbè C'è un vecchio discorso Ricordati la pronuncia L'executioner Non era Tralasciamo Ma non era quest'arma D'altro è la Magnum È la Magnum 44 Ah pure È molto Cioè ti sei Hai fatto una figura di merda No infatti mi sono sbagliato Eh ma ci assomigliano tanto Doppiamente di merda Eh no ma convinto che comunque Ripeto ci sono un sacco di armi Di plego su E convinto che Quella è Cioè insomma Vabbè sì dai Non ripeto il nome Perché se no Vediamo un occhio Quell'arma lì Qua c'è il Remington Sono stato un'occhiata Un po' in giro Per vedere se c'è qualcosa Che mi sfugge Ma si sa di nocchio Io vorrei potenziarla Perché avevo detto che Vai vai Eh se vuoi te lo attivo Tanto io non vengo Non ho niente da fare Vai Attivalo Aspetta eh Arrivo Eeeh Dai 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 che c'è lo zombie Dai Ah ma lo zombie muore cazzo Eh sì infatti è morto Eh eh Aspetta a meno ora ci vediamo E la E la Ciao Beccati sto fiorellino Ecco A distanza Non ci arriva il pacca pance Fottiti No Figata C'è il coltello tattico Oh Se la potenti c'è il coltello No stava facendo cose strane Stava coltellando il pacca pance Tranquillo Oh e la Sì vabbè vaffanculo Chi ma se n'è la mia posizione Eh Ero un po' nella merda No 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 Via via Tornate a casa tua Via 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 Bravo Eeeh Che cosa ti sei potenziato? Eeeh La Magnum Ah Non so che volevi Quella pistola che iniziava con la E Ma non l'ho detto Non so che lo Lo so che lo voleva sapere Ma non lo volevo Eeeh Che cosa ti ha dato? E' purtroppo Mando sempre la cosa acida La specialità acida Quindi nada Vabbè prima ne ho fatto vedere l'elettrica Sì Eeeh Sì l'elettrica l'ho fatta E' anche abbastanza Infatti l'avevo cambiata Io che punto di merda sto Porca troia E ma Eh no Mi sa che devo migrare io Vieni qua Non punto un po' di merda Ma ti stai lì Io sto qua a posto Cioè tranquillo Ehi Poi te li foto anche se ne ho ancora più tempi Eh sì eh sì Ero per quello che me ne ero andato Eh a dire il vero Vabbè Ma ci avevamo finito di niente E te li foto anche Non c'è cazzo Sono solo 4 perk? Purtroppo sì Altra nota dolente Questa macchina Stavo dicendo questa macchina Devo fare due chiacchiere con il creatore Sì purtroppo ci sono i 4 perk classici di Kino Vabbè Eh diciamo che questa mappa è per chi cerca una sopravvivenza proprio classica Basilare Esatto esatto Con un'ambientazione da zombie Perché è un'ambientazione da zombie Sì è abbastanza marcata l'ambientazione da zombie Zombie volevo dire Sì E alla fine si sono quelli C'era il necro tipo Necro zombie Cosa cataverosa C'è una bomba Ma non la prendo A meno che tu non sia in difficoltà seria quindi Tra l'altro siamo già al 17 Scherzo scherzo Eh lo so scherzo scherzo Questa bella è che veloce Perché appunto Sì no ma io ripeto il fatto Che se volete giocare una mappa veloce Fare una sopravvivenza tattica Molto easy Classica Giocate questa mappa È vero Sempre se avete la possibilità ovviamente Questo bisogna vedere Fino a quanto fanno danno Quest'armi qua Vedarmi Ah io ti dirò Per ora In round 17 Sono abbastanza potenti C'è un munizioni Sì sì ma io intendo proprio In generale più avanti Sì 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 Vabbè quello è chiaro Che insomma Però Cioè io comunque C'ho la pistoletta potenziale Sì per ora Guarda Dio Ma ce lo ti danno Guarda lì Bellissima Poi d'altro c'è il mirino Dell'arma potenziata Che è troppo figo Cioè Forse da un lato Un po' Facili da ottenere Cioè nel senso Sì ma infatti Già solo la prima volta Ma se ripotenzi Cambia No non puoi ripotenziare Infatti solo Un pacco Mi sa che anche qua Allora c'è pure Il fatto che ogni arma Ha il suo elemento Prestabilito Io ci sono pacso E mi vado a fare una cassa In pieno round Così Ah è Verso crazy Assurdo E non la prendo Quell'arma Perché fa cagare E io a fine round Così quasi Me la faccio Una cassa Sì Ci sono scimmie Che tu sappia E Credo Credo di sì Non sono sicuro Però eh Ok Ci sono le linarni No no scherzo Ma Non è vero Immagini Oddio Devo lo mettere Da una custom map Eh Amen